Chiarezza e trasparenza, queste sono forse le parole con le quali vogliamo affrontare il tema dell'OCF, delle dimissioni del tesoriere dell'OCF. Abbiamo appreso con un certo stupore delle dimissioni del tesoriere che fanno seguito a quelle rese qualche giorno fa dal segretario dell'organismo, delle polemiche seguite dalla proposta addirittura di una fondazione di OCF in una non meglio precisata attività di carattere formativo per le quali noi stessi abbiamo espresso le nostre perplessità al Presidente, al coordinatore di OCF Giovanni Malinconico circa la non necessità di questo strumento. Ci avviamo verso il 35esimo congresso dell'Avvocatura e tutto questo non è un buon viatico. Apprendere che l'organismo di rappresentanza politica possa essere stato gestito con leggerezza mina profondamente anche la credibilità dell'Avvocatura intera. Si faccia quindi completa chiarezza sulla correttezza di gestione del bilancio, ma occorre ovviamente serrare le fila e prepararsi all'appuntamento in maniera consapevole perché le sfide che ci aspettano sono molto impegnative e sarà il caso anche di aprire una nuova e diversa riflessione sul ruolo, la composizione e la funzione stessa dell'OCF e dello Statuto del Congresso.